Sono Monio Vadia, vorrei esprimere la mia grande solidarietà a una ONG che si chiama Sunshine for Palestine, formata da ingegneri fisici scienziati, il cui scopo è diffondere un progetto importantissimo, cioè che la scienza è uno strumento poderoso per risolvere questioni urgentissime e cogenti che riguardano cose come la reperibilità dell'acqua in condizioni difficili e tutto ciò che è connesso, tutto ciò che la scienza ci può fornire per aiutare le popolazioni che vivono in condizioni difficili di oppressione, di distruzione e l'idea è grandissima perché ha voluto coinvolgere un gruppo di studentesse dell'Università di Bethlehem, quindi palestinesi, perché apprendano queste tecniche con facili esperimenti e che le diffondano. L'iniziativa ha avuto un grande successo, sono accorsi al progetto moltissimi studenti fino a 230. Si vorrebbero far venire le persone che seguono questo progetto in Italia, in particolare le studentesse dell'Università di Bethlehem. Io credo che questo progetto vada sostenuto in tutti i modi. È meraviglioso pensare che un popolo come quello palestinese che vive nella colorizzazione, nell'oppressione, nell'occupazione produce qualcosa che è di solidarietà per tutti i popoli. Non c'è nessun popolo come quello palestinese che può capire quanto ci sia bisogno di strumenti per uscire dalla terribile condizione in cui versa in tutti i territori occupati, in particolare a Gaza e esportare ciò che si apprende, esportare questa cosa dovunque. Io credo che noi dobbiamo ricevere questo straordinario progetto nel nostro paese e per questo io esprimo tutto il mio sostegno come essere umano e anche come nei miei modesti limiti militanti per la causa della libertà e della dignità del popolo palestinese.